Abbiamo giocato un po' con tutti interessanti e forti. Quattro gol, quattro vedete. Peccato siamo svegliati e troppo tardi. C'è un po' conoscenze. E' un po' conoscenze. E' un po' conoscenze. Adesso, nel primo tempo, guardiamo verso l'arrivo. E' un po' conoscenze. Ma c'è un po' conoscenze. Sarebbe stato il maratonon o il maratonon? Salute. Zbittà, conoscenze. Sarebbe stato il comoscenze. C'è un po' conoscenze. Voi c'è un po' conoscenze. Quindi ci sono giocato e rilassi. E' un po' conoscenze. Per faremo c'è un po' conoscenze. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti